Via San Lorenzo, palazzina di proprietà comunale. Ditemi ciò. Perché corrono con i motorini come i pazzi? Si potessero mettere chi li cosentano con un po' a correre. Quindi qui c'è un problema ai motorini. Abbiamo anche il problema pugnario, diciamo tutte cose qua. Infatti tutto di più. Anche il problema pugnario. I pugni che stanno sempre abbrati, i cucetti su questi guadalini. Proprio le strutture sono andate faccibattute. Le carne di barcuna. Questo è un problema degli edifici che sono di proprietà comunale. Non c'è manutenzione neanche agli edifici. Ma voi pagate regolarmente l'affitto? Ma qua non è che si paga regolarmente l'affitto. Non si paga per un solo motivo. Perché il comune non si interessa sulle strutture. Il comune deve prendersi i problemi delle fogne perché noi abbiamo fatto cacciare i soldi e cacciare i bambini di spurti. Noi, manutenzione nei palazzi, se non lo facciamo noi, non si fa niente. In caso si tratta semplicemente che il comune è come c'è stato visto. Ritano i posti. Tipo come i tempi antichi. Quelli che si arriva nella lembra. Ritano i posti. Quindi praticamente state, come vogliamo dire, una sorta di ghetto abbandonati completamente dall'amministrazione. Voi per protesta non pagate l'affitto. No, io prima la pagavo l'affitto. Ah, prima. Io prima la pagavo l'affitto. Io prima la pagavo l'affitto. Però senti che ho fatto ricorso al comune più di una volta. Perché in questa struttura qua, l'impianto di luce l'abbiamo fatto noi di tasca nostra. Le foglie di tasca nostra. Agli autoclavi per l'acqua, per i giri. Tutto a sacca nostra. Ciò vuol dire il comune è qua, ci ha messo qua. E noi abbiamo fatto il resto. E quindi a questo punto le case... Allora, a questo punto nessuno non ha pagato più. E quindi c'è nessuno che paga con queste pagazioni? No, nessuno che paga. Noi abbiamo pagato. Però visto che noi quando andiamo al comune o comune a noi non ci aiutano. Perché noi dobbiamo rastruzione e tu non ci vediamo. Ho capito. Quindi la conclusione è che da un po' di tempo, da quanto tempo poi non pagate l'affitto? A me saranno pure da 15 anni. E quindi a questo punto bisognerebbe... Qua sarà 30 anni. Però a me il comune non mi ha mai fatto niente. Però se l'amministrazione decidesse di fare qualche cosa... Ma è ovvio. Se il comune prenderebbe il problema in causa, allora automaticamente è ovvio. Io pago. Perché a me... Avendo servizi voi pagate. Ma scusate, io ho pagato. Io quando pagavo il pincione. Pagavo il pincione e in più pagavo anche il condominio. Il condominio che consiste? Per me il condominio consiste. Che a me si scassano i motori dell'acqua. Devo farci arrivare i soldi dalla nasca. Che cosa? Del comune. Le foglie. Se non ti aprivo lo spurgo. Che si fanno? Due trecenti euro alla volta. È chiaro. È chiaro. Ma in tutto questo non pensate che vi possano poi dare uno sfratto? Ma non ci... Ma non ci... Ma se ci devono dare lo sfratto? Ma se ci devono dare lo sfratto. Hanno esso pure consapevoli che loro ci hanno visto che non ci hanno mai fatto niente. Lo sfratto. Perché lo sfratto lo possono dare. Se io per esempio dal primo momento che mi sei io ti ho pagato. Però tu non mi hai mai fatto niente. Tu comune. Non mi hai mai utilizzato niente. Ti ho detto. Abbiamo iniziato con gli impianti di luce. Di tasca nostra. Fogne di tasca nostra. Acqua. Tasca nostra. Pulizia e manutenzione. Tornato. Tasca nostra. Più di una volta abbiamo fatto ricorso al comune al riguardo di questa scuola. E niente. Lo comune è vicino. Abbiamo dovuto crescere i bucci. Ma viene dopo. Non lo passo. Abbiamo dovuto crescere. I gatti. Per colpa dei novi. Non lo passo. Noi non abbiamo l'autocarno. Stiamo senza acqua. Ci alziamo alle 3 di notte per fare i servizi. Pure qua. Io abito l'altra. A prezzo. L'edificio la non viene l'autocarno. Lì è l'autocarno solo e poi ci alziamo alle 3 di notte. Perché qualcuno viene dalla scuola. Che numero è? Cbis. Cbis. Quindi l'edificio cbis non ci sta l'acqua. Senza acqua. Noi alziamo alle 3 di mattina. Io ci alziamo alle 4 per fare i servizi. Per mettere la lavatrice. Quindi l'autocarno non ci stanno proprio. Non esistono. Noi siamo arrivati al punto. 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 Che cazzo. Andiamo a mettere la macchina in l'olio perché non puoi scendere perché si scendono le soldi. Si scendono le soldi. Ci stanno tante cose che non guardano. Una richiesta al comune per dire quante cose. Basta che dicere qui vado. Ma scusa ma tu se ci metti in modo da poterti pagare. Ma uno perché non ti ha dato a parlare. Si Mauri ma tu non conto perché si stanno a parlare tutti quanti. Ma lui. Come è legato dei G Scala. Si stanno a parlare tutti quanti. Però quando qua non si può parlare. Si. Ma però. Quando non ci mette. Da caso non si è gesto consapevole. E' chiaro. Si è restato chiarissimo. Ovviamente io utilizzo quello che mi avete detto. Non ci stanno problemi. Mi ha autorizzato. Si si si. Non ci stanno problemi. Non ci stanno problemi. Si si si. Non ci stanno problemi. Perché faccio un colpo comune. Faccio proprio la guerra. No, no, no.